Stiamo lavorando molto su ciò che ci chiede il mister, stiamo lavorando prettamente sulla costruzione di gioco e sulla tattica offensiva, come dici tu siamo un gruppo affiatato perché siamo rimasti tanti comunque dall'anno scorso e abbiamo integrato bene i nuovi, quindi stiamo lavorando bene e siamo soddisfatti. Sì, siamo qua apposta per lavorare, quindi finché siamo qua lavoreremo forte e ci prepareremo per questa stagione che sarà sicuramente lunga e impegnativa. Noi comunque sia ogni partita la affrontiamo con la giusta mentalità, come abbiamo sempre fatto, sappiamo che sarà un primo impegno quindi non sarà facile perché dovremo ancora essere magari un po' in sintonia e recepire ancora tutti i concetti del mister, però ci stiamo preparando bene, come ben detto lavoriamo bene e sono sicuro che faremo una grande partita. Oggi abbiamo quest'ultimo amichevole, sicuramente ci metterà per mettere ulteriori minuti nelle gambe per trovare un po' di brillantezza e ancora l'ultima giocata. È un ruolo che mi piace ma diciamo che a centrocampo posso ricoprire quasi tutti i ruoli nella zona centrale e mi trovo bene anche con il modo di giocare del mister, è molto offensivo, molto propositivo, quindi mi piace essere protagonista della giocata e con questo modulo ci riesco abbastanza bene.